Ed eccoci qua Vediamo, vediamo, vediamo Che cosa succede in città Qualcosa che non va Guarda lì, guarda la, che confusione Guarda lì, guarda la, che maleducazione Hello, hello Hello, hello Ciao, Gabri Hola Come stai, Gabri? How are you, Leon Rose? Thank you, you too Yeah, it's full night here But thank you Andiamo a condividere Yeah, let's just open also Let's get ready to shower Voilà, pubblicare E ciò E ciò E qui, qua Qual è questo juego nuovo? A ver lo che passa Gabri Ciao Frank Oh mio Dio E ora tiene l'ora nostra, eh Chico? Non so la dieci media di noce, eh? Sono la once media Bienvenido 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 nel futuro Perché abbiamo to share Because we have to share With the world 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 I thought it's no audio? No And the audio va Remember the like button, guys Perché sin like A chi no comiamo pizza Macaroni E voilà E voilà Ciao Fanta Mago And hello Ninja E a noi ce l'ho dato Ce l'ho dato Chi? Ninja X Dove sei già passato Welcome It's Paladins Welcome, welcome Ninja If you are new Welcome Remember to subscribe To our channel This is our first time In Paladins So Averlo che passa La regione Europa Ciao Saretta Game mode buzzed around The limiting enemy player Oh Deadmatch Deadmatch Hola Fergie Sì È verrà Gabri Do we remember you Not properly Ninja X Have you changed your name Or profile pic maybe Have we ever played together? Questo è il doc Questo è il doc Andiamo in Deadmatch Yeah Vediamo cosa succede Uuuuh C'è una bomba Dicono di qua Uuuuh Dove è? Dove è? Dove è? You're Jumbo Kid Yes Now we remember you Jumbo Kid It's more familiar to us Welcome back Qual è il J? Eh 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 Si? No Hehehehe Look at you doc Cosa sarà questo Ok Allora vai sapere Allora vai sapere Tutto che tiene Questo juego Di che va Di uscire No? No Lui Wow Questo gioco Già esiste Per altre piattaforme Sì Adesso Sta per Switch E boh Dopo un po' Sarà disponibile Anche gratuitamente Ho saputo Visto che la gente qua Vuole solo giochi gratis Ci sarà anche La vostra opportunità E la era Di giochi gratuiti Dove la gente Deve lavorare Per niente Non se Quando va a salire gratis A un A un tarderà Un pochito Customize Your champion Se pueden personalizar Los personajes Por lo que se ve Si è fortunato Fanta Non dobraic Ederly Que te lo compra No? Eee The savage Yo Yo Eso no es Che calor Ancora no Ancora no You can still pronounce My name Yes Loon Rose We never heard you saying it But we guess it's Loon Rose Che cazzo Dove devo fare 6 5 3 3 2 1 che meraviglioso i 60 frame si vedono ancora non è gratuito ragazzi come si cambia a me mi preguntas? L? o ZR? ZR? Deku? chi è Deku? sembra molto bello almeno esteticamente non lo so ragazzi che domande sono si può entrare in uno stream e chiedere quando il gioco è gratis la mia età sarebbe quando ero si non potete aspettare sembra che lo potete comprare adesso chiaro ciao Ratti ciao Ratti io non so come si gioca hola Clau si è la prima volta chicos asi che stiamo un poco asi entendendo controles tutto ah che guai se ven sempre dove stanno questo sta molto bene va o è malo è buono e malo madre mia che rapido si muove tutto prima persona si può giocare come si può vedere si può giocare in prima persona ciao Yuri Yuri no è una fattica ma non sembra una fattica cioè non sembra facile ma non sembra una fattica let's see how it goes guys it's the first time playing this game so Ratti ha anche appena compratto Paladins l'ha preso? bello si vieni Ratti boom 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 anche Yuri c'è questo gioco mi immagino che è su pc ancora non c'è cross play credo come si chiama? cross platform play tiene personaggi mitologici molto bello la verità è che come che cada personaggio wow representa un ser mitologico ciao L ciao L no no wow 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 Fanta ha detto ancora non è gratuito ragazzi avete Fortnite gratis dai tornate a giocare tutti su Fortnite paga gratis piace a tutti questo si paga 30 euro a noi ce l'hanno regalato a noi ce l'hanno regalato quindi io non riesco a capire 32 21 oh Ratti quando ci sei dimmela ma Frank non viene in chat non lo so Frank Frankino siamo connessi in chat vocale ragazzi qualcuno ci può dire voglio cercarlo io tu sei tu ci sei hai messo uno nero no porchi come ti ho messo uno nero no vale vale mi sei me l'ha spaventato eh lo so lo so così sembra penso anche a Yuri penso lo stesso bella bella mi piace tanto cioè come grafica già per i personaggi l'ambientazione c'è un personaggio che è un albero albero scusa poi questo va a 60 frame un minuto è rimasto dice adatti oh ok dice Frank tengo la voce morta qui qua pisellina voleva fare un scherzo cattivo ma non lo faccio R no mamma voleva dire mamma animato la spagna nel campionato del football silenzio silenzio silence it's dog is playing dog is playing yeah oh mio dio oh mio dio so cute sto cazzo che arma super cisi wow wow si si l'ho letto rati si vieni con la pisellina oh mio dio exacto asì tocan la realidad pequeñito verde no non ero io oh no io sono lo sniper e che amo i cookie mmm 7 kg wow na 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 buona notte sarah ok ratice yeeha notte sarah e l'uapo no hey anthony hey are you happy are you happy today seven kills for the first match how are you anthony yeah like a good game i have made make seven kills one double kill looks frenetic but smooth no no two double kill ah two double kill ah two double kill ah che bello eh sta jugando Fergie perchè tiene il juego tambien ah ok 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 ah we're playing against bots right now really because we we start to play now ah ok understand 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 it's a bad bot though ha 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 did you hola victorine che dico ah ok ok thank you i have to play i think three matches and i am in fourth level cool if you have any tips ratti non possiamo giocare insieme ok 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 if you have any tips anthony madri 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 gabri no 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 Ah, ma non c'era il switch! Ok, il tipto di Anthony è per cercare di mettere ad un campeonato e portarlo avanti che anche si matcha con la personale di Doc quindi penso che questo è probabilmente quello che farà Ciao legends! Cos'è questo coso? mica che mega bomba C'è un tasto per correre Is there any key which you can run? No No? No running? Abilità? Grazie Spreng Guardate se che sono un bot ma non mi applico neanche ok 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 non puoi non run ma ci sono altri champions ok 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 che 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 le che 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 ci sono ragazze adesso possiamo giochi seri mi sa io di giocare dei giochi normali mi piace sì però di unifiglia un personaggio o no tranquillo leggenza niente non ti preoccupare ti puoi guardare il replay quando hai voglia si hai voglia dice che non gli va l'internet che li lagga che va a dormire adesso subito il serve straordinario lo necessito ah l'invite expire expire so quickly si si le sta gustando bastante a ti que te parece a mi me encantan los personajes los veo super bonitos quattro due masbarro dollo kill when you start playing against other people it can sometimes get very hard Sì, sicuramente hanno delle diverse strategie, spero di giocare contro altre persone, preferisco che contro le botte, ovviamente. Ci sono 2 milioni e 390 mila utenti. Ciao Colione. Ciao Colione. Un notte bello. Onstag is good because you get every champion in the future for free. Yeah, I read that. That sounds good. Ratti dicono che lo stanno fissando. Gabbietti si aspira BUFF! Che te è passato? Gabbietti si aspira BUFF! Non mi ha traito, che ho scoperto di essere crazy, spero che si sono state di bene, che si saranno e vittorin, che ci hanno detto? Non ci lo dici o non ci lo racconti? Adesso stavano esperando la crazy justice. i nervi non esiste tanto i nervi madonna doc a vederti giocare a questo gioco così mi viene troppo voglia di vederti giocare a cotta meglio di no mi innamorate tutti di doc no era uno dei più scarsi non lo facevi ma non so come l'ho fatto sì ma era uno dei più scarsi perché giocai in gente molto 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 forte fortissimo calore molto calore grazie a barcelona no one's believing us it's hot here and when they come to barcelona they say wow it's too warm too hot what is that boo boo no is that boo boo no boo 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 fugami perché il ha detto boo ah facile guys remember to smash the like button if you like the game play or you like in the game o se ti piace la comunità usa due personaggi però adesso mi sa che rimane con questo vorrebbe farlo salire un po' di livello cecchino cecchino suo non tanto però non lo so mi piace come vestito gabriel usa aires accondizionato e la calle no in strada non ci sono le aria condizionate ok sto finendo eh cosa? ah c'è ancora? si allora dai tu hai già un paladin? ahahahahah ovviamente io farò anche la voce chat per 5 persone ora vado veramente se non ho sciabatte pieni di polenta e spezzatina in faccia legends chi deve essere? abbiamo la polenta noi antipolenta ahahahahah Sì, sì, sappiamo che le abilità si possono impostare, è un'altra cosa che è molto bella. Le abilità si possono configurare, cosa che è abbastanza guai, ma è configurabile, no? Alla notte ti sei 23 gradi? Noi siamo a 28 gradi, non sei tu dove ti sei 23 gradi, nella terrazza. Frank, se no, puoi aspettare, se non puoi... costa 30, adesso. 5 vs 5, la squadra di Anthony è la tua comunità Ancora non c'è nessuno ancora che gioca Direi che nella mia comunità stavamo aspettando tutti Abbiamo messo i soldi tutti perché Crazy Justice Anthony, molti persone nella comunità mettono i soldi in Crazy Justice Quindi stanno aspettando per questo gioco Niente credo che non va a comprare i paladins oggi Per sicuramente Ma se la gente si è convincente di questo gioco Sì, sarebbe bello Sì, Victorino, però in Barcelona dentro C'è molto più calore che l'onese a fuori Te lo aseguro Sempre c'è 2 o 3 gradi Ciao Yuri, buonanotte Notte, Jurino, un abbraccio Ok, ok, perfetto Bene, grazie Bueno, lo apri dentro di casa Perché si accumula il calore Ah, che parli di costo di memoria della console Eh, era abbastanza pesante Pesante, pesante Bastanza, abbastanza pesante Forse dovresti prima pensare alla targhetta SD Che parlavi e poi vedere questo gioco Fai a me chiedere ad Anthony se lo sa Sì, com'è? Che si usa No, se sa quanto mi occupa il gioco Anthony, do you by any case remember How much the game weights In megabyte? Gigabyte Gigabyte, sorry Ignorant girl Wow Wauw Non sto preoccupi Non preoccupi Efecto minerale provocado por la contaminacion Exacto, nonca mejor dicho È ecco, non ho più detto andata andata What the hell Andata Analtra partita Anata Andata Garati Sì, è così tanto, grazie. I actually think you can switch your language preference in the game. We searched it for a second that we really didn't... 6 giga! 6 gigabyte! Oh my goodness! Oh my goodness! Wow! Ok, hai letto, no Frank? Dice Anthony che puoi cambiare la linguaggio. Ok, we have to search more about the language thing because we just had a quick look because we just wanted to start streaming, but definitely take a look at this, at least to understand what it says. If not, we have to learn more English. Vattene Legenda, vattene ya! Fiu la polenta di aspetta! Anche noi abbiamo polenta stasera, Legenda! Madre mia, Fer, qui 34 grados? Io me chejo? Si, però qui hai molta humedad, eh? Stiamo al 70% di umedad. Non se come stas tu. Per donde hai agua, Victorino? Madre mia! Oddio, cos'è questo? Si, è molto pesante, eh, in realtà. Ma ragazzi, non dovete disinstallare giochi, se volete una console, non solo con un gioco, è ovvio che vi dovete comprare una targhetta SD in un certo punto, sennò vi passate la vita a disinstallare giochi, penso io, eh. Sì, è ovviamente che qua non c'è, no? Sì, Nintendo wanted to buy an SD, that's true. Ciao Marco, e buon viaggio al mare! Ah, vai al mare! Che bello! Oh, Daniel, eh, mira, lo ho comprato ora, quindi ho descargato hace proprio poco a poco, quindi non ho parlato ancora, preferisco giocare, mi piace, mi entusiasma, però non lo so. Seguro più che sei. Io non ho conosco Daniel, sì, sì? Non penso, Legends, però vabbè, forse trovi qualcuno che può apprezzarlo. No, non puoi, ok, quindi lo vediamo corretto, mentre Anthony, quindi ancora dobbiamo imparare un po' l'inglese, non puoi, non puoi, non puoi. No, non puoi, non puoi, non puoi. Ma non è un problema, è un gioco, non è un dictionary. ragazzi ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare il like per favore ricordatevi di dare un like e di iscrivervi al canale mamma mia cosa? non so come la gente fa a non avere memoria ho comprato una memoria Fanta per esempio ha 9 giochi e ancora non si è comprato una memoria si ma c'è dipende che gioco questo è bello grazie ragazzi grazie Daniele grazie e benvenuto tu prima Rara Pingu eh sì Rara ti capisco sì sì forse prima il Pro Controller cosa? se spazio la memoria 256 gigabyte SD in 22 dollari in US in US? what? ok let's buy it in the US here they are much, much more expensive why in the US? ah Daniel juega en ordenedor y PS4 creo che non c'è crossplay no? no? anyone knows if there will be cross-platform at the end switch and other consoles or devices mi basta con chiedere fortnite e che la faccio con la memoria vale, perché già lo verà perché non gioano asedio, che è asedio è una modalità è il primo giorno che giochiamo Daniel europea è basata su questo? no, su del money si, potre una composta più qualità quindi non si spazzate molto ma non si spazzate molto ma non si spazzate molto Ah, non capisco, si potete fare sempre come Fanta, lui dice che a chi vi ha i giochi... Anche Frank? Si, non quella di schedina, chiaro? Fulgo, Fulgo? Pobre Capri! Cosa è questo? Come si usa questo? Come si usa questo? Come si usa questo? Come si usa questo? Allora... Ducca? Ducca, ciao Ducca! Comprate il mando pro Victorino, questo è quello che ti raccomiendo Ah, questo è quello che non ho capito, quello che hai detto Parlin Switch già ha cross-platformi, ma non puoi scegliere con altre plataformi Quindi non puoi giocare contro loro È un peggio, è un peggio Ma ok, è ok Ok... Ok... Pobre Guenta Vale, entendo, Daniel Osea, lo che stiamo facendo noi è battaglia e morte, battaglia e battle royale, credo E poi c'è una modalità che si chiama asedio Eh, ovviamente... Ovviamente, vamos a testare, come si diria, tutte le modalità Ma questo qua è proprio... Per ora, non ci siamo mentiti in questa Perché non ci ha dato per questo, però... Grazie, eh, per la raccomandazione Lo dobbiamo tenere in cuenta Ma questo non mi piace, questo tipo qua non mi piace No? No! Ma cosa fa? Corre e dai un cazzotto Ma... ok Sicuro quando avanzerà di livello sarà fortissimo Figuro, cazzo Figuro, cazzo It will definitely happen in the future, though Ok, that's good to know No, no, no Questo non mi piace It's not my... It's not your champion No, 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 no It doesn't like that character... at all Can we already play with viewers? Non lo so, come si va? Eh, dobbiamo passare le quattro... Battaglie, no? Ah, quattro battaglie? Ok Eh... Yes, we can Ok, cool Yeah, Anthony Yeah, Anthony When the game first come out, we're able to switch your e-shop to Mexico and get the game for $13? Wow! Yeah Did you do that? Dock, Jess, we're going to try to sleep Buenas noches, Gabri Que tengas una buena noche barcelonense Gabri, aquí estamos si no duermes, eh? Jajaja Un consejo, no te tapes con sábanas Para nada, porque... Entonces sí que te quedas sin... Sin batería Si Little Poppy Calla Vittorin, por favor No me digas eso No me voy a imaginar Hi Little... Hi Little Poppy, welcome Can I join? Eh, this is our first stream Later, I can play with you Don't worry Wait And wait And when the match finish Difficile, eh? Con questi cogliones No, triple kill Triple kill Oh, mio Dio No No, triple kill Questo è il mio giocatore e il sniper, no? Il giocatore che spara, no? A parte che questo qui non ho capito come si usa bene perchè prima ha tirato fuori un'arma della Madonna Si Ok For sure, ragazzi, questo non è il suo carattere favorito Questo è qualcosa che ha deciso già Masaki! Masaki, che tal? Come stas? Noi provando nuovi Grazie Grazie Ah, che bello! Ah, è Moni galilifopio, vale, vale Ah, Moni! Ma se tu vai in tendenza, in che lingua vai in tendenza? Nel mondo! Ciccio, sta arrivando, mi mancano solo 2 milioni e 399 mila sub! Quindi, di lì, di spiegarti come fare Il che? Ah, to join Ok, ragazzi, è Anthony o qualcuno che conosce Come possiamo fare per giocare insieme? Per giocare? Niente, soffrire caldo, Duca, questo abbiamo fatto, e molte altre cose, però non c'entra perchè adesso giochiamo Giochiamo, giochiamo Ah! Wow, ho perduto questo Masaki Sì, dove sta qui? Sì Allora, in beat by name Ehm, try Gork E che le gusta Anthony Oddio, come cazzo si va? Minus, vale Sì Parti? Anthony, parti? Parti tab Parti line Oh! Ah ok, ok Ok, ok Ok, ok, understand color is always easier so elastoni ok so is that a bong? eat from the bong yeah but we need too much friend yeah we need more friends no? how many do you need more people to join? what do you mean? ok of course more here of course but I think they will do a little bit and they will do a little bit and they will do a little bit to recover happy here we go hi 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 last minute i i i i i i i i Masa Masa Si scrivono tutti Masa Masa E io gli dico Masa Buono Masa De verda, meglio questo Che altro cosa, in serio Pochino a poco Ya sapete, i stream sempre sono qui E tu anche E tu, tranquilo E questo è lo più importante Apolene, Daniel Daniel Sì, lo sigo come si pronuncia E anche lo vamos a jugar Vamos a provare tutte le modalità E questo è sicuro Pochino a poco Una detrasse la altra Il canale di Condor Ciao Ciao ragazzi Ui, sto urlando Benvenuta Benvenuta a tutti Ma è Condorelli Chi è? Ma si, ce l'avevamo tra l'altro Nel primo server di... Mi ricordo molto del nome Non so perché Mi ricordo di te Lo sabemos Barraza Due settimane Due settimane Due settimane Sin Barraza Ciao Vero? Kingston come SD non è un po' cattivo. Meglio così. Meglio Samsung come ti sta accendo Frank però... Cioè non è sconosciuta. BAMMA! 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 Quindi adesso stai spiegando con Anthony? Sì, bene. Allora, ricordate di subscribe. Ricordate di spiegare la patla! 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 Compren items con la A. Con las monedas de fuego dices, Daniel? Madre mia, quanto nos queda por descubrir, chicos? Seguro che fuori del stream... ...vamos a esplorarlo bien, bien, bien. Solo che, claro, lo abbiamo, literalmente, abierto en stream. Ni lo abbiamo mirato, antes. In modo... ...esploradores, ahora mismo. ... ... Ok, Rattino. Non c'è che non abbia più voglia di giocare, casomai vi sentite dopo. Va bene, Ratti. Potevi entrare, sei in un'altra partita, cazzo. ... ... ... ... Ian, eh... ... Anche a matrimonio... ... BAMBA, LA TESTOLINE! PINTA BIEN! DAMI LA TESTOLINE! DAMI LA TESTOLINE! DAMI ESA CABEZA! GIVE MI ESA CUENTA! ciao una cuenta grazie per averte passato speriamo che ti abbia gustado anche questo gioco mamma tumbate ah si Frank non sapevo sai scusate per dare la informazione erronea dice che la Kingston a volte no io ho detto è meglio la Samsung si può essere difettosa meglio la Samsung classe 10 quindi è meglio comprare una piccola di Samsung che una grossa di Kingston no? a Kingston ci sono troppi fake come Samsung se per comprare e mai compari di seconda mano ovviamente cioè forbidden che strano mamma ti capisci buonanotte e no no nada perky come la maggia la gente in verano tocca vacaciones e si a tutti siti uuuh fin della partita ah no vale vale dice che è una tortuga vale, entro le partite tu compras items para tener mejoras las monedas se consiguen jugando la partita unos items reducen la curazione e così pero tengo que estar dentro de la partita jugando? o lo puedo hacer fuera también? bella, bella, me piace super caótica, pero me piace e una tornatura non l'avevo visto male sembri io wow quello si chiamava come un rio in Germania eh? quello si chiamava come un rio in Germania madonna 200 se oscente vino po 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 oi vittorin Ah, non lo sai, non lo sai, non lo sai, non lo sai, dobbiamo essere umili Dami la tua testa, pollo Ah, ok, ok, molti grazie Daniel, ora entendo Una informazione importante, olè, good job, good job Dice, se conseguen, le monedze se conseguen jugando, vale? Però non si guarda quando sai da casa Silenzio! Oh mio Dio! Guardate il doc! Oh mio Dio! This is doc, guys! Vale? Scusa, scusa, le stronzate me le puoi dire anche dopo No, ok! Hai cose che solo puoi conseguire dentro la partita E quando tu sales non le puoi conseguire Ma se devi scrivere la base e aprire la A Hola Marco Taco! Oco Punteria! Benvenido otra vez! Hola Marco Taco! Benvenido chicos, benvenido a todos! Silenzio! 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 in the party we check if we have another one okay first of all do you want to play this Anthony I want to do something different and second question it's in the shop okay good you're already into it we don't lose it right okay we'll try and push the payload now if this one is recommended I'm a dead match I like to ammazzate I like to ammazzate you're playing the battle royale okay you're a bestie of the match it's breaking well it's been important for us to know that we have not heard but in the fact that we don't see anything like that because it's a typical ideology of the game che è il idioma i nomi di armati o titoli è molto intuitivo non credo sia molto importante se tu non lo entiendes tutti lo entienden no ora quando aparezca aprieta A e compra un item che dicono per lì che ripieno a di toni non sei online oh mio Dio te recomiendo cauterizzazione questo è quello che ti curano non lo sai 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 ma come il game era frizz no? è frizz sì sono c'è molti errori o errori nel game ok Anthony in the party ok come on Barbie let's go party ah 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 yeah quindi adesso appena esce la cosa appena esce la cosa ragazzi il like l'avete dato vero sì devi premere subito A così ti danno le cose grazie Daniel a ver A te recomienda cauterizzazione no se come se dice lo che ti cura tío che cosa è questa cosa? non lo sai items era la A no? ok flashbang tono raro mi che bellissima domani io non esco domani ragazzi Anthony ha spento la switch mettendolo nel dock ah tranquillo tranquillo bello bello sto gioco mi piace chiaro troppo cringe questa cesta è super cringe questo è l'acqua è l'acqua che dice che dice dock è smittio manca un ninja qui sì eh non hai detto vado fanta scusa eh ho capito notte ah ah no no ho capito Anthony put the switch in the dock yeah this is what I was saying how did he manage to do that oh my god it's really impressive the dock eats switches all the time fat free switches who are you who are you soul hi soul soul how are you did you have a nice weekend no here's there is no rock salt guys che leo pingu te leo vale vale entonces te ha dado el objeto apretando la A o no no non so bueno non mi ha quedato più chiaro no se si ha cogito l'objeto al final l'item ora ah si quando entri claro healing no testa non posso far niente ah ora ah hai 400 bella ok abbiamo grazie per l'avviso grazie per il consiglio headshot claro fanta io avevo capito spiegando un blocco notte tipo abituata a non vedere le cuore oh oh your switch is being repaired Sol well it's bad and good news at the same time i guess how long will they take hola Thor he has put the talk of the francotirator boom 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 ok the joycons hope it repairs soon Sol oye Ferky buonas noches noche Ferky no esperamos que te hayas divertido bueno creo que si porque ya has mencionado que necesitas este juego lo vamos a traer bastantes veces así que cuando quieras aquí estamos creo que Doc me gusta realmente usar Gorg en el próximo partido deberías darles el consejo de Anthony ok si no no como el gris de antes cuyo nombre no sé oh mira el albero quello bellísimo albero albero oh me lo han ammazzato no 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 eso es lo peor y lo mejor no lo sé como decirlo no 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 le mani le manis on the dog secure tialaным años de experiencia aquí en juegos de disparar, más que nada so entonces escuchen de donde son Daniel, L è italiano, io sono alemane Però viviamo in Spagna E tu, se vuoi Se vuoi rispondere Tu lo hai? Tor? Il paradigme o che? È stato un abbasso di corrente È stato proprio un abbasso di corrente E questo è quello che ci sono De Chile Olle Nuestro nuovo Tomato È il chile, non è vero? Antes avevamo una broma Ci sono molto gente di Chile qui anche Per le noche Il brusco di lanciare in Luna Canutri O Luna Allora, vediamo a Cork 15 minuti Oh, quanto stiamo giocando? Una ora? Non lo posso credere Un'ora Certo Certo 15 minuti, ragazzi È incredibile Ta Lo puse Non è Il rialle È 12 minuti O Certo Si Quina cosa è? Questa è la differenza no non mi piace no? no, ho bisogno di una vera ah ok ok ah ok, hai bisogno di tirare ok ok no guarda io purtroppo ho un sensore quando vedo un personaggio so già che mi piace è quello anche perché non so come si usa magari ha bisogno di usare ok, questo è stato potente guarda, cosa sta facendo? no madre mia però se solo sale in la pantalla eliminato, eliminato, eliminato tiburon tibu che tal tibu? sperate Leo sono totalmente concentrato in la pantalla madre mia non ho leo niente qui sono le... sì, sono molto più tardi Daniel sì, me dieron 11 passadas te credo Vittorin per tu personalità te pego e tutto sì, ti ha dato un golpe di calore tiburon che dici? ha causato calore no ha causato di verità molto calore Sì, stai vivendo l'acqua, tutto ciò che hai di fare, no? Entendiamo perché noi, hace una settimana, anche a Doble, le cogiono uno. Stavamo una mattina debaixo del sole. Quindi oggi, nulla di risa di tipo, no? Oh no! Oh! Also, the weapon is supposed to be held down. Cosa vuol dire? Ah, verso il basso. Guardare verso il basso. You mean like looking at the... Ok. Ah, penso più basse di quello che stai tenendo, forse? Like he has to watch more to the ground, kind of? Vabbè, stai tocando adesso. Sì, 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 don't worry. Con la L pones un totem e te curas. Ah, ah, vale, vale. Lo que he visto a uno hacerlo, creo. O sea, se te queda poca energia, haces eso. Gracias por los consejos, chicos. Oh, Tibu, mellórate, eh. Mucho liquido, por favor. Que te necesitamos. Y agua, eh. Sí, sí, mucho liquido. Agua, por favor. Sí, 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 agua, no, 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 nada con azúcar, que el azúcar no hace que baje la temperatura del cuerpo. El otro día, ahí está bebendo zumo. El otro día me lo hacía el otro día y dijo algo, sí, que dijo, algo sí, ¿no? Y dijo, andalo el Coca-Cola, qué fuerte. Ah, hold down trigger. Eh, tú lo capisci? Hold down, el cartillo tienes que mantener abajo. Tienes que mantener presionado, creo que significa. Ok, ok, I think I get it. Like he did at the beginning, maybe. Lo sparo continuo. Sí, like keep it pressed. Oye, buenas noches, Pingú. Esperamos que te haya gustado a ti también el juego. Cuando veas los personajes, estoy segura que te encantan. No sé por qué, pero tengo esa sensación. ¿Qué da de Fanta? Acá en Chile hace mucho frío, pero ya te está lluviendo. No, dame lluvia, por favor. The L button puts down a totem, yeah, exactly. Ah, you and all the teammates, that's good. Está de dos personas, eh, el consejo. Muy bien, muy bien. Vale, ¿síte mi duele, el doyte? Sí, lo has visto. Vale, vale, perfecto. Good to know. Cari, se va. Cari, un abrazo, bella. Carina. Un abrazo, Carina, se llama. Con la Sanzita. Minchia, ¿cuál es el juego con el doppio pistole? Sí, es verdad, tibú. Pues ya nos echaremos partidas juntos. Doc ya ha anunciado. Tengo que desinstalar este juego porque se me llevará a la vida este juego. Le gusta mucho ya. Plenty to the other champion to choose. If you're a girl, you don't, isn't your choice. Yeah, totally. Yeah. He especially likes sniper. No, or sniper or maybe shoot. Yeah, shooters. To see the bullet, bullet. Yeah, he has to see the bullet correctly. Correctly, ok. Well, and plenty of... Yeah, it's true, there are so many right now. Will you let me play once, at least? Amir, ¿me dejarás probar alguna vez? Claro. Claro. Yo sé que este pruebo todos los personajes, así los ves. Sos tanto último. ¿Dónde están asignando las decisiones? Creo que es card A? Ok, 5. 5. Eh, bueno, bueno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Con un personaje que no es mío, ¿verdad? Go for Victor. Uno que se llama Victor te está recomendando. A ver, ¿qué alma tiene? Let's see. He runs really fast and shoots real bullets. That sounds good, that sounds good. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Torin dice o qué? ¡Ay, Torino! Es que antes ha dicho. En verdad, yo... Espera, que te lo escrolo porque eso vale la pena leértelo. Pero yo quiero esta ahora. Madre mía, pero ¿cuánto hace que lo ha dicho eso? Bueno, te estaba diciendo que venía de... En verdad era un viajero en el tiempo, ¿vale? Que... Dice que empezó una nueva vida en este mundo porque sabe que no puede volver. Madre mía, pero ¿cuánto hace que has escrito eso? Quería ver lo de antes. Hace mucho, no lo encuentro más. Anthony, I think I tried the other characters in private. Right now, no. I love so much this bastard man. No, bastardo, broga. I like it because it's a really small area. It's really cool that you cannot escape so much. It's really good. It's really good. Wow. And how long are you playing this game already, Anthony? Anthony, I love it, ¿eh? You are a good player, I'll see, ¿eh? Wow. Victor. 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 Victor, ¿tienes tu personaje ahí? ¿Has visto? Hi, ¿eh? She's a muscle. Thank you. Welcome. Welcome. Freaks you gamer. Welcome to the community. Thank you. What? Thank you so much. Non dico che vuoi Ah Frank, ragazzi io vado a dormire che sto chiedendo gli occhi Ho paura di banare qualcuno mentre dormo Sarebbe l'inconscio, inconscio, subconscio Tranquillo Frank Ti piace quindi il gioco, dacci il tuo feedback Penso di sì, vero per quanto hai detto prima Ah, you have been playing only for two days Nice Anthony Ok, allora è normale che non hai provato tutti i miei Oh Giorni, gioca solo Wow No, no, no puedo dormir, quiero ver il directo entero Bueno, diciamo che molto relajante non è Dici che dopo le canta la nina nanna Despues te canta una, come si chiama in spagnolo? Una cancion para dormirte Cosa gli ho fatto, cosa gli ho fatto a quel pollo? Ento se ti ha sacrificato per la umanità, no Vittorino, entiendo Eri su un grande eroe Sì, mi piace, assomiglia molto a Overwatch, sì, quello ho letto Quindi buonanotte Frank Ciao Franchino Tiposa Tiposa E R come sempre per te Buuu 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 Se nota, è che te gusta la storia di Vitto A una nanna? Ah, mira, interiore non è Nina nanna Buonanotte Il culo ti sparo Frank poliglota Frank poliglota Uuuu Uuuu Oh my god Oh mio dio, vicinissimo Non c'è problema, è davvero intemesibile, un secondo Tempo di ammazzarlo Oh mio dio Puoi farti visibile questo galattere? Che figlio Uuuu Lui l'ha lanciato, io l'ho schiacciato Un Si, 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 tipo, lo han dicho a un par de personas Se parecen mucho a mi me encantan Osea, me fijo mucho en el físico del juego, me encantan los personajes Veramente, guarda E il fatto che tutti hanno i sui arma, i sui poteri e tal, è genialo. E mi piace che tutto sia il video malo. Nooo! Boom! Questo è il match player. Vediamo. Non urlare silenzio, per favore. Non urlare silenzio! Ex! Axe! Ah! Madre, buona prestativa! Cattivissima, eh? Quegli occhi blu fanno un po' di paura. Cosa lancia? Coltelli! L'amo! L'amo? Può essere che la vuoi amare. Può lo amare. Dice... Se si tratta di piazza. Quindi, io penso che facciamo l'ultima partita. Avvisa al nostro amico Anthony. Sì? L'ultimo match? Sì. Ok, Anthony, questo sarà l'ultimo match di Doc per oggi. Per oggi. Per oggi. Per oggi. Ricordi! Se si tratta di puoi da essere. Sì. Se si tratta di come se puoi. E' la mia preferenza. Dice che veramente te lo scopi da Victor. Dice che è veramente te lo scopi da Victor. Ok. Cool Anthony, lo prenderà ovviamente in account. In privato, secondo me, dovrebbe provare la maggioranza. Se si tratta di poter anche il suo personaggio. questo è Vittor? Vittor? vabbè, proviamo ora ah, qui il lone wolf il gancholto minchia il mio nome il suo nickname il lone wolf io sono un perro suelto ma ha una piccola per il corpo si, come va? Vittor, questo è per te Vittor, questo è tu ah, quando ti trasportaron eras un nino Vittor, entiendo che interessante Fanta, mandalo, e se vuoi adoro come, e se vuoi faccio vedere cosa? e dice, e sempre sono benvenuti lo vittor bella cosa, eh? bella, è bella ovo Anthony credo il d'ho anche piuttosto che che cosa? dite che non è un problema che fino adesso è stato molto più piuttosto giocare con noi non è stato con te sì, Anthony ma siamo solo due persone dicer quando la gente tenta ACMI podendo il gioco è più e più divertente perché la comunità è davvero forte nel gioco non giocano solo in Splatoon ma il gioco favorito io gioco in Splatoon la maggior parte stiamo giocando in Splatoon perché le persone qui qui giocano tanto giocano tanto abbiamo fatto circa 700 subs con Splatoon quindi è la parte più grande ma anche, credo che Doug ha detto il problema di copyright con alcuni altri gioco è solo più pratico bello sto giocando qua ma fa niente Fanta voglio dire, per esempio Saretta mi ha un botto di disegni che fa se no no eh ma a me piacciono i disegni oh mio dio meno male che c'è la plastica no, questo corre sì, esatto questa è la principale first impression doc? sì, fast solo che ti fa molto la visuale, no? no, no no, uguale anche perché questo qui lo puoi usare anche senza minare ah, bello basta che stai a dover range nice, nice vedo, vedo un po' di due maniere, no? due modi no no i macchiati non si limitassi ma che fai in digitale o in carta diciamo guarda come corre no, prima di scappare il giacchino no, prima di scappare il giacchino no, prima di scappare il giacchino tu preferisci sì, quella persona lì ha quelle due armi ed è molto 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 versatile da tutte quelle che hai provato fino adesso? questo è il secondo che ti è più piaciuto o? sì, non è brutto vittorini, non posso creare così del tutto però come diria il vittorini del 2018 dame pruebas io solo mi credo lo che vedo che, per certo, non mi ricordo di lo che tengo pendiente ancora, eh vittorini, non te creas che mi olvide sta sempre in mia mente sulla carta in digitale è difficile ah, ok, ok intanto si inizia la carta, no? non è che è meglio saper disegnare in vita reale e poi imparare digitale quindi, ciò che può dire su questo giacchino fino ad ora piace che sia molto veloce ma ancora preferisce l'altra ma questo è bello ma credo che sia un carattere davvero buon sì potrebbe essere come un secondo carattere, no? per usare magari ora per il carattere che ho provato sì una volta che ho provato sarebbe come un secondo carattere per usare sì, sicuramente ah, le bombi sono cool, no? questo in italiano è un marcello tutti insieme lì vale, vale sì, sicuramente lo comprobaré con registro della epoca tutorial voilà bella sì, sì nice, nice è tutto eh? ah 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 pensiamo che vi lascani ero io? sì sì oddio per i nabbi Una cosa che mi piace veramente è quello intorno a cana di colore, mi sembra facilissimo riconoscere chi devi sparare e chi no, questo mi piace tantissimo, penso che per i giocatori non professionali per dire è una cosa, cioè ha cose come per professionisti e per noob, Sì, si piace, ha like Anthony, ho bisogno di conoscere il meglio, ha bisogno di conoscere il meglio ma sembra che sia un buon carattere sembra che sia un buon carattere quindi ora? Luca, ancora uno, ancora uno l'ultimo oh mio Dio, è già inizia ok, ma l'ultimo l'ultimo, ok? puoi mi promettere questo? io ti mando la foto del mio abuelo hola Brenda hola Brenda bienvenida è il primo giorno che stiamo provando questo gioco, Brenda si siamo ancora novati tu lo giochi? la storia di Victorino è impressionante, te lo juro un monton di dinero chicos, per favore, ricordatevi di like e di iscriviti al nostro canale si, ancora non siete iscriviti al nostro canale non siete iscriviti al nostro canale super molto bella spratun spratun io la sui giochi è il mio figlio è il mio figlio buongiorno bene, fortnite non tanto fortnite non tanto fortnite non tanto perché ora stiamo jugando a un altro gioco però noi giochiamo in fortnite un monton di persone di nostra comunità giochiamo in fortnite si, 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 si chiaramente se vuoi 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 si Noi siamo! Questo gioco mi dà una visione, sono sicuro. My phone does last match. Mi phone does last match died. Ah died. Ah ok. Last match for our two. Ah no. Now for real. Aún no ping non ha llegato la hora. Toni minchia guarda Toni che bella che è. Jing. Vale acabo di ver. De che è? Non me lo cuentes, credo che sia sorpresa. Vale. Miralo. Miralo, stiamo cuocando, è la nostra prima vez. È uno shooter, è in prima o tercera persona. dove c'è un monton di eroi. Molto. Parece che sia due equipi. Beh, hai diversi modalità anche. Come sai che sono real people? Come sai che sono real people? Come? Come sai che sono real people? Che è dire qualcosa è real? Real people no. Eh, come sai questo? Beh no, come sai che cosa è real people? C'è il recordamento? Cosa sai quel tempo? I don't know the game that they compare, more than just for that Look, I think if you take a moment to look, it's quite... It's understood very quickly what the game is about, I think It's very intuitive Because the people on the other team have actual names Ok Ok But can we choose this? I mean... No That's a pity Yes, yes, I've read it now We are preparing Ah, good When you are level 5, you can only play against three people, no thoughts Ok Good to know, good to know, Anthony Thank you Ok, fantastic But look, we'll never try that game that they compare Since you said this Oh my God Let's go Yes 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 I have to do all the things in this place Grazie. 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 Anthony, credo che non hanno la possibilità. Adoro questo gioco, è bello ragazzi, è veramente bello e non puoi fuggire, niente di escondersi, niente di... Anthony, perfetto, contro la gente, contro la botte, contro il gioco. Adesso, io voglio vedere la statistica. Aspetta, Fanta, quando esca, c'è un paio di mesi, tranquilli. Tra un paio di mesi sarò il più forte, quando esce... Così non avete nessuna opportunità. Così... Cazzo, è veramente bello. Sì, non l'avrei mai detto eh. Puoi vedere... Wow, Anthony e Doc. Il primo è stato questo qua, ma non per tanto. Buono, 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 davvero bello. Allora ragazzi, credo che il live stream finisce qui. Sì. Ah, un regalo? Un regalo? Un regalo? Sì. Un regalo? Deve si vede? Dove? Deve? It was awesome playing with you guys. With you too, Anthony. I speak for Doc, but... Yeah, yeah. Knowing him, it was. Really hope to repeat that. Dove? Chiedi di se dove regalo. Ehm... One last question. Do you know how to pick the gift? They're telling us we have? in the diamond chest ok, where is the diamond chest? in the diamond chest che l'ha detto chest, qua ok, the diamond chest no, purchase, no purchase per monedas, no? open chest open chest open chest ooooo what is it, a purple diamond? that's weird feature, really? no, ah, go to features ok, we were at the wrong place already and press X X unlock, ah, now it's unlocked, ok ah, ah, ok ok, and now I have to go to open to open it ok, ok, ok nice boom what is it? VIKTOR! nooo, nice epic skin VIKTOR! that was luck that was luck it's a mix of thousands of games well, you know guys, nothing, nothing that doesn't exist yet in the world of the games everything that will come out in the future already exists, in one way or another ok, Anthony likes it yeah, I was really lucky that you got VIKTOR so, it was really cool dog is just smiling, that's good maybe I have find a game I like oh, 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 oh. VIKTOR VIKTOR ah, ok so, I can go to the game to go to VIKTOR and put them ah, there's him customizing ah, cool ah, cool every day you get a gift that's good encouraging to keep playing guarda com'è Victor adesso che è Victor? che non è più riconoscibile che è un armor super dai prima di andare via facciamo vedere i personaggi ci si capisci c'è tanti wow che figa lei let's just check out a bit the players there are just to inform a bit Furia but she's a sword takes a bit to upload them Ash pesante lei that's a huge weapon si si it's bigger than she is si in breve saldrà Pingu dice Fanta che tiene una sorpresa parati che bello che bello he's cute este l'abbiamo visto antes bomb king his majesty yeah the champ yeah yeah I noticed take just a bit oh he's boh questo tira le bombe si but he's for my taste quite too big aspetta a me è questo too easy aspetta fammi vedere questo qua fernando è quello lì di god of war guarda che bello wow that's a nice shield questa è che è la versione customizzata ah vale vale chiaro already customized si dai ci mette troppo tempo eh you forgot to change your victor weapon skin also wow wow the heart is impressive cosa vuol dire vittor eh tienes que ir otra vez a vittor e cambiar weapon skin ah the skin for weapon wow ok mes accustomize y creo que ves ahi que tienes varias cosas no accustomize mes mes que tenes ztr eh ma non mi fa'n dara no en swap weapon ah back to skins ok 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 yeeha ehm so you can use which one no one no they're locked or back to skin oh no no i have i have put it in ehm dite che l'ho messo direttamente col tasto sincronizza tutto ok eh he used the synchronize all button ah vatti di nuovo li e guarda se c'è ancora qualcuno ancora che non è locket cioè che non ha no ma mi da uno ancora li però non mi fa'n dare in customize guarda guarda dove eri prima nelle armi che si vedeva tipo con i candados con i lochetti questo e la fai scroll guarda tu non posso scroll e con questo no tu non posso scroll why 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 weird i cannot scroll down man maybe we're missing the point i don't know maybe it's bugged like for night press a wow so many no 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 ok weird no i cannot press a and i cannot press no 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 one button super weird very strange yeah dai don't worry Anthony we'll check that out later yeah e dimmi a dentone che può essere che ci sentiamo tra un pochino eh ma come può essere che c'è guys please write because i will salute you chicos darmi un saludo ma si scrivete nel chat scrivete nel chat si puoi salutarvi si a chi salutar non me lo creo che hai treze persone online e solo tre se acabò il stream por ora chicos va a fare la ronda di saludos e non è nadie tre persone mi dice qui buona passata bueno a los ultimos presentes vale entonces Anthony Fanta Kari Jess Doc e Cocchino che dorme thank you so much see you later grazie a chi bai 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 Grazie.